Grazie! Grazie a tutti! Mi hai letto nel pensiero? No, vorrei dirvi che Lucio ci sarà sempre qui sul nostro palco, cioè noi finché canteremo e suoneremo lui sarà qui con noi. Quindi lui sarà sempre qua. Quando voi vedrete un concerto degli strani, un pezzettino di Dalla sarà qui con noi. E lo vedrete, e lo vedrete e lo sentirete. Noi adesso, come ha chiesto l'amico, vi faremo ascoltare una sua canzone, una canzone che per noi è importante perché l'abbiamo anche suonata ai tempi. Io e Giovanni eravamo in quel disco con lui a suonarla, questa canzone. L'abbiamo suonata per tanti anni insieme a lui e credo che sia una delle più belle canzoni di Lucio. L'abbiamo vista nascere questa canzone e proprio perché l'abbiamo vista nascere sappiamo che fosse una delle più belle canzoni della storia della musica. L'abbiamo vista nascere questa canzone. L'abbiamo vista nascere questa canzone. L'abbiamo vista nascere questa canzone. Marco Grosso. L'abbiamo vista nascere questa canzone. 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 L'abbiamo vista nascere questa canzone.